buongiorno ragazzi eccoci qua nel canale TecnoAlex73 con l'unboxing del Galaxy S10 in colorazione nero prisma tradotto in italiano mette la scatola qua com'è questa scritta argento cangiante su cartone nero una scatola molto classica dietro abbiamo le informazioni che riguardano il telefono come prima cosa abbiamo il display 6,1 pollici in diagonale chiaramente tutto arrotondato il display questo nuovo tipo di display super speed ha un notch anzi ha un buchino dove c'è le camere nascoste nascoste sotto un po' diverso dagli altri notch che ci sono visti finora e display molto molto ampio abbiamo una grande luminosità quanto riguarda le fotocamere dove sono una da 16 megapixel 2x con un f 2.4 una da 12 megapixel f 1.52 fino a 2.4 la fotocamera anteriore invece l'abbiamo da 10 megapixel con apertura focale 2.9 che sarebbe quella che si usa per fare anche i selfie poi abbiamo delle casse stereo e cuffie abbinate al telefono del hk g che sta lavorando con con samsung le specifiche tecniche abbiamo 128 gigabyte di memoria interna integrata e 8 giga di ram ok ci sono vari tagli come negli altri telefoni arriva fino a 512 megabyte mi sembra o qualcosa del genere poi alla ricarica wifi inversa che consente di ricaricare vari dispositivi utilizzando la carica wifi del nostro s10 poi resistente all'acqua il p68 e adesso lo apriamo vediamo andiamo al bello spellicoliamo la scatola così la spettacolare ok adesso apriamolo vediamo se questa è una scatola complicata come le altre o no la scatola è sotto vuoto bisogna aprire anche questo qua perché se no non si aprirà mai tutte le volte mi frega questo adesivo ma ok va bene ecco qua ls10 versione nera che poi è un nero particolare perché dovrebbe avere una serie neri grigi viola blu vedete contro luce non so se si riesce a vedere ma comunque l'effetto è quello lì molto compatto vedete c'è una pellicola davanti e dietro adesso qua davanti forse fissa quella dietro si può levare e non hanno messo il classico adesivo col codice a barre l'email è sempre bello levare le pellicole ok fate com'è lucido si confermo che ci sono cambia a seconda della luce cambiano i colori dal grigio violaceo e così questo blu scuro un colore vabbè bello come colore anche la cornice abbastanza bella in alluminio argentato beh hanno fatto un bel lavoro con questo telefono qua devo dire che non so se riesco a farvelo mettere a fuoco bene comunque diciamo che potevano mettere anche un altro colore le cornici comunque andiamo avanti caricatore ultra veloce è un fast charging che dovrebbe essere cinque volte due ampere poi vabbè il classico adattatore per la porta usb ok vedete tipo c usb così si vede meglio eccolo qua ok mettiamo lì poi le specifiche non so se riesco a farvele vedere bene forse non riesce scritto troppo piccolo poi andiamo avanti qua c'è il cavo nella sua scatoletta le cuffie eccole qua AKG diciamo che sono un'ottima fattura e un'ottima qualità adesso però magari si riesce a aprire eccole qua sono uguali a quelle delle s9 praticamente o delle note 9 cavo in corda che anti antitutto non si dovrebbero arrotolare ma comunque allora accendiamo il telefono che poi alla fine quello che ci interessa il telefono vibrazioncina molto breve all'accensione come gli altri sopra cosa abbiamo un po vedere la capsula auricolare ok sempre lì sottilissima quasi invisibile dietro vedete le triple cam messe di orizzontale flash led i vari sensori allora vediamo sotto jack audio ancora una volta presente ottimo l'altro autoparlante e vabbè la prima tipsy per ricaricarlo allora eccoci qua andiamo alla configurazione già vedete che praticamente a tutto schermo tranne quel buchino lascio in cima che c'è la fotocamera che è quella per i selfie adesso qua andiamo avanti adesso non so se ve le faccio vedere porta dati vabbè saltiamo scegli una rete wifi ma veniamo ok google qua bisogna accettare tutto leviamo con l'altro ok display va bene lo lasciamo accettato così un po quando è pronto digitale mettiamo il pene solo levo un attimo scusate ok aspetta ok ok velocissimo rispetto all s9 questo comunque adesso proviamo a registrare l'impronta e a premere un po meglio rispetto ma come questa nuova tecnologia dell'impronta sotto il display ma come mai non va ora ci siamo non è certo sto schiacciando molto ma sembra quasi di spaccare il display bisogna proprio schiacciare a fondo ma comunque vediamo leggermente il detto che complicato fare questa impronta qua credibile ciao falliamo i nostri eroi ok non è stato semplice registrare questa impronta oh mio dio diciamo che la pellicola applicata forse direttamente dalla samsung che hanno messo è un allora andiamo avanti andiamo provare a mettere un altro impronta vedere se magari era la prima volta vediamo se ero io che sbagliavo qualcosa registriamo anche il secondo dito premi più forte com'è porca miseria messi in difficoltà la registrazione di un'impronta credibile la complicazione tutta la complicazione di questo nuovo galaxy è la registrazione dell'impronta sposta al dito ogni volta che metti impronta verifica la posizione mamma mia madonna sono già stanco qua ignoriamo tutto ignoriamo tutto ok poi lo sistemerò dopo adesso vediamo un attimo il telefono eccolo qua direi che solita grafica in mano si tiene bene non scivola fa abbastanza grip qua iniziano ad arrivare notifiche ero curioso di provare questa impronta sul disco che si può presentare sotto il display però mi è sembrato già un po difficile registrarla comunque tanto vedete che tanto sto provando la velocità del display varie impostazioni adesso c'è anche il tema scuro da qualche parte che va per la maggiore ultimamente ecco qua il tema scuro ce n'è una marea mettiamo una a caso proviamo subito a registrarsi informazioni del software vediamo un po com'è c'è un attimo al codice scusate metto il pin abbiamo aperto la parte sviluppatori presente primo gennaio 2019 dovrebbe arrivare l'ultimo un altro aggiornamento a maggio qualcosa del genere vediamo un attimo la velocità ok mettiamo a 0,5 le animazioni per avere il massimo della velocità di ogni telefono android vediamo un attimo la fotocamera come se si apre qua vediamo un po com'è la fotocamera che mi hanno parlato così tanto a me mi sembrano sempre le stesse sarà che io non sono un partito di foto però secondo me dall's8 in su sono quasi sempre tutte uguali bisognerà vedere sul notturno più che altro le foto forse lì si nota la differenza fluidità spettacolare comunque sembra veramente ancora più veloce dell's9 va bene poi ci sono le solite applicazioni preimpostate lo schermo è veramente ottimo l'impronta le impronte dietro rimangono anche meno impresse sul sulla scocca del telefono rispetto ad altri telefoni poi che dire niente cosa dobbiamo dire espandibile dual sim vedete qua sopra c'è il carrellino per inserirle questo cornice argentata forse ci sta male non mi convince tanto comunque era meglio un altro colore secondo me comunque eccolo qua questo è un bel telefono ragazzi niente da dire va bene ragazzi adesso poi lo proverò ne manderò un'altra recensione vediamo nello specifico mi raccomando se vi è piaciuto il video i pollicioni condividetelo e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti